Non ad avere tutte cose d'acqua come panna, se no come produce tutto quello che c'è? C'è uno su strike, uno a uno Premo lineato per questa parte alta del secondo in Liga Punteggio a casa base, due ball, uno strike Lancio bollo al punteggio, 3-1 Lancio strike al punteggio pieno Sì, la senti oggi Questa è la vota Andrea Abbaccio